Musica Questa sera sul main stage si esibirà Giancane qua presente al nostro stand per quattro chiacchiere benvenuto Giancane grazie, ciao a tutti e tutti Giancane cantautore romano anche se probabilmente avrai da ridire all'essere chiamato cantautore cantautore si è un po' strano a citare la tua canzone cantautore scrivo e canto quindi alla fine quello è ma non come povia per citare la tua canzone grazie tornando a noi hai da poco pubblicato il tuo nuovo disco Tutto Male anticipato da quello che potremmo definire il singolo dell'estate quello che ascolteremo sotto l'ombrellone oltre al reggaeton che è Voglio morire estate di domenica all'ora di punta quello è il suo progetto in macchina però in macchina in mezzo alla strada se possibile ma a parte gli scherzi non ho scherzo no no neanch'io in questo disco mi sembra di percepire rispetto ai tuoi dischi passati una vita al top ansia e disagio e mi sembra di percepire un certo cambio di registro nel senso che poi è una mia impressione mi dirai la tua nel senso che per dire le grasse risate che a volte ci facevamo con odio ai bambini o vecchi di merda o adotto un fascista anche te le oga un blu mi sembra che in questo disco non ci siano più o ci siano in misura molto 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 minore e sei d'accordo con questo sono d'accordo sì è vero è vero perché abbraccio la scrittura di questo disco è un periodo lunghissimo che per boh per questi tempi qui insomma era geologica probabilmente sei anni e e beh niente ero più depresso in questo periodo ci posso far poco e quindi mi andava meno di scherzare cioè ci sono tipo uomo sarni tuttuccia che nasce sul palco quindi è di Claudio non è un pezzo mio ci tengo a precisarlo perché sia chiaro e voglio morire in più l'altra metà è depressa l'altra metà è proprio triste mi dispiace ma ero triste e infatti io mi concentrerò proprio sulla seconda perché ce ne sono due in particolare che mi hanno colpito perché ho detto accidenti strano no? sì uno ho capito una è papà Francesco l'altra è ovviamente come stai che poi il cui testo dà il titolo al disco in particolare papà Francesco l'hai definita come una delle canzoni più pesanti più difficili che hai composto e volevo chiederti se ci vuoi parlare del significato di questa canzone ovviamente parla dei padri quindi mio padre fondamentalmente boh non lo so stavo a casa a suonare mi è venuto questo pezzo tutto di fila tutto intero finito ho detto oh forse lo devo buttare fuori sta roba qua e l'ho fatto e pure live ancora non lo sento un po' più devo stare con gli occhi chiusi in quel momento se no mi perdo mandava di farlo poi boh non so nemmeno come lo possano prendere ho fatto un po' di concerti quindi la risposta è stata anche figa tipo a Bologna una ragazza davanti a me stava a piange dicevo vedi meno male esce poi il concerto faccio pure un sacco di roba a cazzeggio quindi quel pezzo lì è proprio una pesantata però che devo fare mi è venuto mi piace e lo faccio quindi un po' un effetto catartico da buttare fuori sì ma c'è più o meno tutto quello che faccio è così quindi se no non lo farei questo in particolare è molto personale quindi lo sento di più come tema poi fortunatamente non sono da solo poi quando l'ho fatto sentire pure prima a un po' di amici ho detto no vedi figo e anche su voglio morire di cui prima noi abbiamo scherzato sì c'è poco da rire abbiamo scherzato in realtà dicevi che è tutto un ragionamento su in realtà il diritto alla vita e alla morte esatto e vuoi parlarci sì penso che l'ho buttata giù a cazzeggio perché non mi andava di essere proprio pesante fino in fondo però in realtà l'ho scritta in un momento di merda non mio ma di persona a me care che l'ho visto decadere nel tempo e pensavo boh io ho sempre avuto animali cani cose anche da qui il nome se no e arrivati a un certo punto sai che per dare una morte dignitosa al tuo animale che poi diventa un pezzo di cuore l'etanasia è una cosa umanissima ma tu non lo puoi fare su te stesso sui tocchieri questa cosa mi fa perdere la testa mi fa perdere completamente la testa ho detto buttiamo la cazzeggio ma in realtà il senso del pezzo non si direbbe mai ma è questo ero scritto veramente in un momento di merda che dicevo fosse possibile cioè ti farei una pera per farla finita qua senza sofferenze scusate se vi sto buttando in questo lago di depressione ma fortunatamente secondo me è colpa mia perché io ho indirizzato tutta la discussione in quel senso è colpa mia mi spiace e un'altra l'ultima giuro la smetto canzone che mi ha colpito è cadi poi cadi poi cadi più che altro in realtà abbiamo parlato dei testi finora questa mi ha colpito molto la musica ma qua c'è un cane che gioca a fare gli Iron Maiden si tra gli Iron Maiden e i Rancid da dove ti è nata sta cosa qua un po' un ritorno alle origini si esattamente cioè stavo quello poi è un pezzo che mi sono registrato tutto da solo ho suonato tutti gli strumenti l'ho fatto tutto poi mi andavo a fare un pezzo tra il metal e il punk come facevo un tempo a batteria ovviamente l'ho fatto al computer ma non è che so fare quella roba in quel modo fortunatamente Claudio Gatta però se l'hai imparata dopo perché i doppi colpi con la cassa sono sempre stati un casino ma adesso è diventato bravissimo quindi l'ho fatto per lui in realtà ma andava proprio di fare un pezzo così e l'idea è venuta da un video che vi consiglio di vedere su Youtube che si chiama Don Matteo non la smette di trollare dove ci stanno un montaggio di una puntata di Don Matteo dove gli fa ripetere spesso sta frase nella vita tu cadi poi cadi poi cadi di nuovo poi cadi mi è rimasta in testa questa cosa e ho detto però figo facciamolo oltre a Zero Calcare in questo disco ci sono una miriade di fumettisti gli scarabocchi di Michael e Mirko eccetera eccetera poi se poi te le dico tutti perché l'ho scelti tutti uno per uno io a seconda del pezzo cioè non è una cosa l'ho scelti apposta molti sono persone che conosco da veramente una vita per esempio papà Francesco proprio il pezzo che per me il più potente l'ho fatto fa Marcello Crescenzi che è un illustratore gigantesco e col quale suonavo quando avevo vent'anni quindi ci conosciamo da una vita ho detto Marcello questo lo devi fare a te cioè sai tutto o Silvia Six ha fatto Cati Poi Cati Poi Cati di nuovo anche conosciuta come Tu Nonna c'è un progetto perché so che quel video ce lo siamo visti insieme per miliardi di volte quindi o Michele si è dovuto accolare due sigle perché mo per forza Michael e Mirko perché su una cosa come stai mi immaginavo proprio un suo disegno pragmatico o Nova su più non dormo col danno che forse è il mio pezzo preferito del disco è quello in realtà solo perché c'è il danno di cui sono un fan spiegatato o Sarni che l'ha fatto Domenico Migliaccio che ha fatto tutte le grafiche mie da sempre le magliette vabbè comunque c'è stato un sacco di fumettisti con i quali ho avuto il piacere e l'onore di passare oltre le cose professionali anche umanamente delle cose Bene noi ci avviamo alla fine di questa chiacchierata e c'è una domanda con la quale noi cerchiamo di legare un po' tutte le interviste e gli artisti che è quella riguardante l'indipendenza in ambito artistico e musicale e tu sei legata a un'etichetta indipendente che è una più note insomma in Italia che è la Woodworm e volevo chiederti dal punto di vista di un artista legato a un'etichetta un'etichetta indipendente nell'era che è quella attuale nella quale potenzialmente c'è un animale gigante che ti sta andando lì ma è collaboratore il collaboratore ha partecipato alla call e collabora con Radio Sherwood non lo sapevo scusa un po' di shaming un po' sì in qualità di artista che è legato a un'etichetta indipendente in un'era come la nostra che dove diciamo il duty yourself ha raggiunto potenzialmente i livelli massimi nel senso che chiunque potrebbe registrarsi prodursi mettersi in internet guarda per me non è cambiare nulla cioè se vuoi non so la domanda la mia domanda è dal tuo punto di vista cosa un'etichetta può dare a un artista in più diciamo dal tuo punto di vista di artista legato sicuramente nel mio caso specifico non si tratta di cose artistiche perché ho la libertà di poter fare come cazzo mi pare proprio e se vede ci ha fatto un disco completamente senza senso però loro hanno una cosa che io non ho l'organizzazione c'è qualcuno almeno che mi dice mi dà dei giorni e degli orari se no per me posso proprio sbattermi andare lungo cosa che faccio comunque però serve serve proprio a me personalmente a fare questa roba qua cosa che faccio a fare questa roba qua per la roba qua per la roba qua per la roba qua per la roba qua Grazie.